Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube, oggi un video rapido, diverso dal solido perché non ci andiamo né a parlare di analisi gameplay eccetera 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 Andiamo semplicemente a parlare di quella che sarà una nuova rubrica che vedrete probabilmente una volta al mese sul canale Dipende da voi perché come avete detto dal titolo ho bisogno di voi E fondamentalmente che cosa faremo, cosa farete soprattutto all'interno di questa rubrica Fondamentalmente darete libero sfogo a tutte quelle che sono le follie più totali che vi capitano quando giocate in weekend league, rivals, amichevoli eccetera eccetera Quindi che cosa vi sto chiedendo? Vi sto chiedendo di raccogliere tutte clip strane di robe assurde eccetera 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 Momenti paranormali, giocatori che borano, palla che sparisce, trappiedi che trapassano le sfere di gioco Insomma cose alle quali siamo abituati a vedere, portieri che volano, fustro da casuali in mezzo al campo Quindi vi chiedo di raccogliere tutte queste clip e di inviarle all'indirizzo mail riberaclipchiocciolagmail.com Lo trovate chiaramente anche in descrizione di questo video E fondamentalmente la mia idea è quella di realizzare una rubrica che sia sullo stile diciamo di mai dire gol Quindi è una cosa molto goliardica, simpatica, dove io prendo le migliori o anche tutte se faccio un episodio extra large a cadenza mensile E non magari settimanale E quindi all'interno di questo video me le vado praticamente a guardare per la prima volta Quindi faccio delle reaction e le condividiamo per farci un po' di risate Perché sto gioco fondamentalmente spesso ci mette di fronte delle situazioni al limite E credo che sia giusto pure farci una risata, no? Alla fine è un gioco, sul primo momento ci può dar fastidio Però poi riguardandole magari ci può anche, insomma, strappare un sorriso Quindi senza che tiriamo robe per aria, ecco, che non fa mai bene Visto che poi vanno riacquistate le cose Quindi raga, fondamentalmente sto video molto molto rapido finisce a breve Si autodistruggerà anche, penso, prima o poi Quindi il messaggio è registrare le vostre clip Salvarle, van bene col telefono, dalla Play, come vi pare Purché sia, insomma, una qualità decente Che si riesce, insomma, a capire quello che succede E inviarle all'indirizzo mail riberaclipchiocciolagmail.com Intanto, mentre esce questo breve video, io sono in treno direzione I serie A Quindi aspettatevi più o meno intorno a giovedì un vlog come c'è stato l'altra volta Dietro le quinte della E serie A Che tanto vi è piaciuto, non me l'aspettavo A me è piaciuto un botto registrarlo Quindi lo rifarò sicuramente E nulla, mi raccomando Iniziatemi a bombardare di clip Che, vi ripeto, sarò in treno Quindi mi metto bello comodo Inizierò a vedere la casella mail che pinga le notifiche E mi guarderò le vostre clip Raga, un abbraccione, un salutone Date sfogo alla vostra creatività E aspetto tutte quelle che sono le vostre mail Vi aspetto quindi Vi ricordo in descrizione tutte le live giornaliere Sulla piattaforma Viola Tutte le news E nulla raga Un abbraccione, un salutone al vostro Riberoschi Bella